una buona serata come sempre benvenuti all'appuntamento con angoli l'appuntamento della sera vi ricordo cari amici cari amiche come restare sempre in contatto con la redazione molto semplicemente basta scrivere al nostro indirizzo di posta angoli chiocciola espansione tv punto it e presento con molto piacere un'amica che torna a trovarci grazie marcia riva ormai insomma sei di casa potresti rimanere qui sempre perché noi ti amiamo moltissimo tu e tutte le tue ricette quindi davvero grazie grazie tanto grazie a te senti tra l'altro voglio subito ricordare tu hai anche un sito dove tutte queste ricette insomma si possono approfondire si possono imparare meglio perché tu sei molto gentile vieni qui in studio e cerchi di spiegarci il più possibile sulle tue ricette ma ce ne sono tantissime e tutte assolutamente da utilizzare certo questa sera cosa ci porti questa sera facciamo un dessert un dessert crudista quindi non usiamo il forno e lo prepariamo con la zucca e con il caco e allora via come sempre vediamo al nostro tavolo di lavoro e impariamo come si fa questo dessert allora anche in questo caso partiamo dagli ingredienti quindi partiamo dagli ingredienti allora in questo caso la base sono della frutta secca quindi mandorle nocciole ho usato dei datteri che ho frullato insieme e con un goccio di limone un po di cannella e ho ottenuto questo impasto che sembra una frolla ecco tra l'altro è lavorabile incomincio a raccontare questa cosa perché che ormai siamo intanto alla fine del mese di novembre quindi siamo sempre più vicini al periodo insomma del natale e io voglio sperare che tu tornerai anche per insomma qualche ricettina natalizia per la fine dell'anno ci vuole molto volentieri bene bene insomma tranquille che poi marzia torna oltre che alle ricette che ci saranno sul sito anche qui in studio ad angoli ma torniamo alla ricetta cosa stai facendo intanto allora sicuramente anche questo può essere un dessert adatto per un momento di festa è sicuramente ricco e molto goloso abbiamo preso la nostra frolla fatta appunto con la frutta secca quindi non ha zucchero non ha farina non ha lievito non ha uova non ha burro quindi naturale naturale insomma adatta a tutti adatta a tutti quelle ricette che tanto spesso si vede senza senza no tutto senza è tutto senza è tutto senza però qualcosa dobbiamo mangiare soprattutto un po di gusto ecco ci vuole esatto allora io sto facendo una specie di pasta di frolla di crostata per cui ho messo la base adesso gli mettiamo il il bordo ecco tra l'altro marzia perfetto ecco voglio capire tu ora ovviamente stai proponendo una mini crostata quindi piccole porzioni per ogni invitato però poi volendo insomma la mamma di famiglia che vuole preparare una crostata insomma più normale può riorganizzarsi con la quantità degli ingredienti e fare sempre questa base anche magari in una teglia più grande allora in questo caso io ti consiglio sempre di fare delle piccole porzioni perché stiamo parlando di frutta secca e anche nella nella farcitura ci saranno gli anacardi quindi comunque è golosa ma non è proprio propriamente leggerissima anche in termini di apporto calorico per cui tu dici un bocconcino per non esagerare perché è buonissima ma è anche super calorica insomma un po calorica diciamo così insomma non è proprio una cosa leggerissima ok quindi primo passaggio la base la base questo punto vediamo di scopparlo senza distruggerlo vedo che questi attrezzi che tu usi sono ricorrenti quindi insomma davvero assolutamente in cucina perché servono per dare una forma alle ricette quindi che siano quadrati che siano tondi bisogna comunque pensare di averli se si vuole creare qualche cosa di particolare anche nella presentazione ecco qua ok sì ci aiutano sicuramente e poi se diamo una forma anche per il lato estetico è un ulteriore aiuto a questo punto io ho fatto una crema frullando gli anacardi che ho tenuto in ammollo per otto ore la zucca e il caco o anche in questo caso aromatizzato con della cannella un po di scorza di limone della vaniglia e abbiamo questa crema con cui farciamo la nostra crostatina quindi torna ancora la zucca in un'altra applicazione rispetto a quelle che già ci avevi raccontato ingrediente nuovo invece il caco immagino avrai usato la polpa ho usato il caco parsimon che è un caco quello con la consistenza soda ecco quindi anche questa è una considerazione importante per cui per preparare questa crema anche la scelta del frutto non uno qualsiasi quindi attenzione anche in questo caso esatto sì perché se abbiamo una buona consistenza insieme alla zucca otteniamo comunque una crema abbastanza solida altrimenti è sostenuta altrimenti rischiamo magari che diventi più una salsa io il caco l'ho anche tagliato a fette e essiccato per renderlo croccante ecco ti chiedo una cosa insomma non si dovrebbe ma io te lo chiedo lo stesso nel caso si dovesse sbagliare questa cremina fosse come dicevi no non troppo solida si può correggere il tiro come si fa sì allora possiamo aggiungere ancora degli anacardi e renderlo più compatto oppure possiamo fare a parte mettere dell'agar agar e aggiungerlo poi alla nostra crema in modo tale da renderla un pochino più sostenuta ecco quindi insomma si può sempre trovare rimedio a tutto quanto perfetto a questo punto mettiamo un lampone un paio di mirtilli quindi anche in questo caso insomma la scelta dei colori è sempre insomma molto attenta perché hai creato anche in questo caso una cosa molto piacevole alla vista tu lo ricordi tutte le volte è importante che il piatto insomma fascini commensali sì assolutamente quindi tu sei molto attenta a questo mi piace che cosa hai aggiunto ancora? e poi ho messo del finocchietto selvatico ah quindi insomma hai spaziato anche in questo caso in un piccolo particolare che rende la ricetta e soprattutto il piatto ancora insomma più simpatico sì sia perché appunto diamo quella punta di verde che va a rendere gradevole la presentazione e poi perché ha un contrasto di gusto che sta molto bene con gli altri ingredienti ecco senti Marzia per esempio un dessert di questo tipo visto che negli appuntamenti precedenti ci hai raccontato un antipasto un primo poi insomma manca il secondo ma arriverà sicuramente un dolce un dessert di questo tipo che come ci hai detto ha comunque già una certa componente calorica importante per esempio con quale tipo di pasto si può abbinare quindi un antipasto piuttosto che un primo piuttosto che un secondo oppure anche più cose che cosa potresti immaginare? allora per fare un menù completo potevamo fare vabbè in questo caso c'è sempre la zucca ma volendo ripercorrere anche le ricette che avevamo fatto le scorse volte che ero venuta il carpaccio di zucca per esempio che era leggero con il patè di cannellini oppure la volta scorsa che abbiamo fatto la quinoa con i funghi facciamo quel piatto unico e poi ci gustiamo il dessert quindi insomma cercare anche un po' di fare attenzione all'apporto calorico in base alle ricette che prepariamo e quindi insomma anche in questo caso trovare il dolce però ci sta il dolce certo piuttosto rinunciamo ad altri piatti ma troviamo assolutamente lo spazio il buchino per un dolce senti intanto chiedo alla nostra regia ma lo sta già facendo di mandarci come sempre il tuo sito sul quale potete ritrovare queste ricette ovviamente ma anche moltissime altre e siccome un aspetto insomma della cucina tua che a me piace molto è quello che tu davvero insomma scenda nell'orto oppure dal fruttivendolo sotto casa e riempi insomma il tuo cestino di provviste siamo a fine novembre quasi insomma a ridosso del mese di dicembre quindi qualche suggerimento per chi ci sta ascoltando quali ortaggi per esempio privilegiare rispetto ad altri sia ovviamente pensando alle tue ricette ma anche a quello che di fatto troviamo su banco di vendita allora adesso andiamo verso la stagione fredda dove iniziano ad esserci tutti i tipi di cavoli per cui il cavolfiore, il cavolo romano, il broccolo per cui ci possiamo veramente dedicare a tantissime ricette con questi ingredienti ecco quali ovviamente li spiegheremo in dettaglio in altri appuntamenti ma questo tipo di ortaggio sposa bene per esempio la soluzione dell'antipasto piuttosto che del primo, del secondo a quale carne per esempio lo possiamo avvicinare? la carne direi di no perché infatti no non ti so aiutare in questo caso ma nelle altre soluzioni invece si riescono a declinare tranquillamente dall'antipasto oppure per un piatto unico, un primo, un secondo senza problemi possiamo fare una salsa, ci possiamo mantecare un risotto con il cavolfiore per cui abbiamo veramente tante possibilità e anche in questo caso aggiungerai delle erbe aromatiche orientali? chi lo sa? può essere questo te lo chiedo perché qualche tempo fa sei stata sempre qui a trovarci con il nostro altro caro amico Sauro Ricci che ovviamente salutiamo e ci raccontava appunto di un suo viaggio in Giappone probabilmente anche per approfondire queste conoscenze tu lavori all'interno dell'accademia sei insegnante ricordiamolo quindi insomma queste ricette non sono a caso e quindi ha portato qualche cosa di nuovo verrà lui a raccontarcelo? possiamo sperare in questo? speriamo sicuramente certo a lui è sempre un grande piacere essere qui con te per cui immagino proprio di sì posso spendere queste parole e la valigia era bella carica era carica quindi insomma abbiamo delle buone possibilità di scoprire ingredienti per noi assolutamente sconosciuti ma ad abbinare in cose straordinarie come ti ho detto io insomma da ora, da subito a nome mio e di tutti coloro che ci stanno seguendo ti esprimo il desiderio insomma che tu venga qui nello studio di Angoli davvero per illustrarci qualche ricetta visto che siamo vicinissimi alle feste adatta al Natale adatta alle feste insomma che salutano l'anno vecchio e devono essere ben augurali per l'anno che arriverà e quindi insomma Marzia io spero che troverai il tempo per essere di nuovo qui con noi assolutamente il tempo lo si trova e mi fa molto piacere venire bene grazie Marzia come sempre Marzia Riva per essere stata qui con noi grazie di cuore grazie mille grazie anche a voi ma rimanete assolutamente lì Angoli torna tra pochissimo grazie mille